Nuovo ritiro alimentare nei supermercati Carefour per un rischio chimico associato alla presunta presenza di ossido di etilene. Ad essere ritirato è un dolce, ovvero crostata di ciliegia della Brusa SRL. Il produttore è invece il forno Miotti, con sede in via Europa 14 a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. I lotti interessati sono il numero 21140 con data di scadenza del 30 novembre 2021 relativo alla confezione da 500 grammi e il lotto numero 21159 con data di scadenza del 30 dicembre 2021 sempre relativo al pacco da mezzo chilo. Si avverte di non consumare assolutamente il prodotto e restituirlo al supermercato. Grazie per la visione!